Un impero finanziario in rovine, un vagone pieno zeppo di soldi di origine illecita che arriva sino a Spalato, nei Balcani e lì si ferma. Il blitz ante il riciclaggio e il sequestro all'estero di un milione e mezzo di euro troncano il traffico di denaro messo in piedi tra Italia e Croazia da una rete di imprenditori e prestanume pescaresi come estremo tentativo di sottrarre alla giustizia sino all'ultimo centesimo di un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. a segnalare l'epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è il Buildgate, l'operazione di illegalità senza frontiere della Guardia di Finanza di Pescara che frena la fuga di capitali in terra croata e particolari dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il colonnello Antonio Caputo. La giustizia non ha confini e questo è il risultato dell'operazione Buildgate, conclusa in questi giorni dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara. In questo caso il network della cooperazione internazionale ha funzionato perfettamente e ha visto come protagonisti la Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica di Pescara e l'Agenzia Europea Eurojust sulla cooperazione giudiziaria penale. Il metodo Follow the Money ha funzionato ancora e ci ha permesso di scoprire e recuperare un vero e proprio tesoretto di un milione e mezzo di euro trasferito illicitamente in Croazia per nascondere le tracce della provenienza illecita di questo denaro sporco che era il frutto di una lunga serie di frodi fiscali commesse nel settore dell'edilizia. Il vantaggio quindi è stato duplice, aggredire i patrimoni illeciti e recuperarli all'erario. L'attività d'indagine, spiega la nota della finanza, ha inchiodato un pool di impresari e teste di legno coinvolti in un giro d'affari clandestino finalizzato a riciclare all'estero proventi illeciti derivanti da reati di natura fiscale che, emersi già nel 2015 con una serie di inghippi tra cui fatture per operazioni inesistenti per oltre 500 milioni di euro hanno creato una voragine di 100 milioni di euro di imposte vase per cui nel 2019, sempre nello stesso ambito, con l'applicazione del sequestro come misura di prevenzione patrimoniale sono stati requisiti beni, denaro, rapporti bancari, partecipazioni societarie ville lussosissime per un valore di oltre 16 milioni di euro. E proprio perché sbagliando non si impara, in questo caso per sfuggire all'aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, viene addirittura organizzato un flusso oltre confine delle provviste delle truffe tributarie. La fuga dei capitali comincia l'indomani della nascita in Croazia di due imprese fantasma esistenti solo sulla carta ma necessarie per aprire conti correnti di comodo dove versare e depositare il denaro sporco.